Che cos'hai? Tu mi dici io faccio. Dosti stampati con numero di telefono, coordinati e indirizzi. Il tinto ai calabrese? Col tinto ai calabresi tutto a posto. Aspettano al porto di sbarca alle undici e mezza massimo. Siamo da Dragano Vasilis. Perché siamo? Io e te. Io non ti voglio la mia grande occasione. Te mi sottovaldo e me ho dentro e mi sbondo. E non ti c'entra te dentro che c'è sbondo. Non ti c'entra. Invece sì. Tu, Umberto, mi tratti sempre male. Tu mi devi dare questa occasione, me la dici. Sì, 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 basta. Con questa vocina sempre tra le palle. Poi quanto fiato? Non tu lo trovi o tutto questo fiato? Te l'ho detto. Dentro James Bond, è lui che grida per me. Se non mi porterò, racconto tutto al direttore. Hai capito? Io dico tutto. Ti ricatto, sì. Ti ricatto. Beneficio, un conere. Ascolta una cosa. Parliamoci da uomo a uomo, ok? Chi tu ricatti, te? Te. Chi tu ricatti, te? Te. E' il tempo che ero di merda! Aia! 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 Dove va? Dove va? Aia! 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 Aia!